L'ingrediente perfetto incontriamo Roberta Capua sulla 7 da domenica 13 con Gianluca Mec. Sì, un programma di cucina dove parleremo dell'ingrediente perfetto, cioè in ogni puntata sceglieremo degli ingredienti che noi consideriamo perfetti e devo dire che nella tradizione italiana ce n'è di cose buone da andare a scegliere e con questi ingredienti perfetti faremo una ricetta. Gianluca ogni settimana porterà il suo ingrediente perfetto che generalmente è un superfood perché insomma ci tiene alla salute, alla forma fisica e insieme prepareremo qualcosa. E' un po' il set, un po' diverso dal solito, no? Bella questa terrazza. Senti, la seconda volta che conduci con Gianluca cosa ti piace di lui? Che è una persona allegra, spontanea, generosa, ci troviamo proprio bene insieme, devo dire. In questo caso siamo in cucina, lui non è proprio diciamo bravissimo ai fornelli, ma non importa perché lui ci porta la conoscenza dell'ingrediente e poi io insieme a lui cercherò ogni volta di trovare una ricettina e di aiutarlo a fare qualcosa. Testiavamo durante il set, in cucina sei brava come lo dimostra in tv? Beh, in tv faccio quello che poi faccio a casa in realtà, quindi insomma un pochino di mestiere ce l'ho ma per passione perché in realtà diciamo sono casalinga, sono mamma e quindi cucino per quello e poi ho anche la passione, insomma così il piacere di invitare degli amici a casa e quindi mi diletto. Vediamo insomma, speriamo tutte le volte di riuscire a proporre qualche cosa di originale ma allo stesso tempo di semplice perché credo che oggi ne abbiamo viste tante di ricette difficili, complicate, con abbinamenti azzardati che poi alla prima ci piacciono veramente, secondo me no.